Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accisi. Allora, stanotte voglio iniziare facendovi vedere una cosa. Eccolo qua, in tutta la sua grandezza, in tutta la sua maestosità, aspetta che voglio unire anch'io fuori in foto. L'uovo Kinder sorpresa gigante, non quello piccolo, non quello medio, quello gigante. Perché vi ho fatto vedere questa cosa? Per due motivi essenzialmente. Motivo numero uno, per me la Pasqua arriva quando arriva a casa mia l'uovo Kinder sorpresa. Ripeto, non quello piccolo, non quello medio, non quello maxi, quello gigante. E lo so che sta cosa potrebbe dare adito a molte critiche, da quelle più cazzate, insomma, tipo che paghi tanto per aver poco cioccolato, paghi la marca, eccetera, eccetera, quelle un po' più serie. Già negli anni scorsi mi ricordo quando facevo i monologhi comici sulla Pasqua, mi veniva detto che non capivo il vero senso della Pasqua, l'essenza della Pasqua, la parte religiosa, eccetera, eccetera. A tutte queste cose rispondo allo stesso modo da anni, ossia non me ne frega niente. A me Pasqua, per me arriva quando arriva l'uovo maxi, da sempre, da quando ricordo. No maxi, gigante. Sarà perché quando ero piccolo, mi ricordo che i parenti che venivano tipo a trovarci la domenica o il sabato, mi portavano sempre all'oveto Kinder piccolo. Ed era un attimo di gioia quella sorpresa, sapere, non sapere cosa potevo trovare dentro, ok, al di là del cioccolato. E forse cerco sempre di ritrovare quell'attimo in cui ero contento, in cui aprivo l'ovetto giallo e montavo la sorpresa. Ed ero contento. Chiaramente più cresci più hai bisogno di misure maxi, ok, in questo caso giganti. Il secondo motivo per cui vi ho fatto vedere questo uovo è che alla fine penso anche questa cosa. Che nella vita non dobbiamo mai accontentarci, ok, di qualcosa che non sia gigante. Di persone che magari ci danno un po' di tempo, ma non tutto il tempo, che ci danno un po' di loro. Ma con passimonia. Noi dobbiamo meritare, dobbiamo volere sempre il massimo. Sempre qualcosa di gigante. E non accontentarsi di qualcosa di piccolo, medio, anche maxi. Perché maxi sembra tanto, ok, però se si può dare di più. Se c'è un livello in più. Perché dobbiamo accontentarci? Se c'è un livello in più. Se c'è un livello gigante. Perché dobbiamo accontentarci del maxi? Ok. Chiaramente come pretendiamo. Dobbiamo pretendere il massimo. Dobbiamo anche dare il massimo. È scontata sta cosa. Ok. Perché alla fine quando dicono che le dimensioni non contano. In tante cose le dimensioni contano. È che a volte ci facciamo andare bene l'uovo piccolo, l'uovo medio, l'uovo grande, l'uovo maxi. Dicendo vabbè o almeno qualcosa ci è andato. No cazzo. Se c'è un uovo gigante. Dobbiamo pretendere l'uovo gigante. Se c'è una persona che amiamo, a cui vogliamo bene. Dobbiamo pretendere, se noi diamo lo stesso, tutto. L'affetto gigante, il tempo che ci dà, deve essere gigante, tutto gigante, tutto il massimo. Perché se cominci ad accontentarti e vuole avere qualcosa di meno, alla fine la percentuale scenderà sempre di più. Fino a quando avrai un uovo piccolo e dirai, beh, bello dai. No. Nella vita dobbiamo pretendere sempre il massimo. Sempre. Dobbiamo avere sempre qualcosa di gigante in cambio a quello che diamo. E noi chiaramente dobbiamo sempre dare il massimo. Nell'amore, nell'amicizia, nei rapporti con le altre persone, nel lavoro, in tutto. Ed è per questo che stanotte vi ho fatto vedere il mio kinder gran sorpresa, gigante. E buonanotte. E buona Pasqua, ma ci torneremo.